di domenica c'era più palloni che altro la bella artamarea nei nostri posti e qua ce abbiamo il collega ce l'abbiamo è pronto e carico il ritorno dal corso a roma a montelibretti e cario ha detto spara a tutto che si muove anche anche alle stelle di mare spara bene via carichi siamo carichi il mare ci hanno detto che non è un granché ci divertiremo speriamo grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove sono? I miei posti sempre. Un mostro. Grazie a tutti.